E' chiaro? Questa è la situazione attuale. Se aggiungiamo a questo quello che succede con l'autonomia differenziata, il Sud lo possiamo chiudere. Lo possiamo chiudere. Veniamo alla sanità. Finalmente si accorgono tutti quanti che la sanità pubblica del nostro Paese ha un disastro. Il Presidente del Consiglio Meloni ripete una cifra, non è vero perché noi abbiamo stanziato 134 miliardi, è la cifra più alta, fermo, è una notizia truffaldina, perché i 134 miliardi, 3 o 4 miliardi in più, li scattò lo scorso anno. Intanto non coprono neanche l'aumento dei costi dell'energia e l'aumento dell'inflazione di questi anni. Ma queste risorse del Piano Sanitario Nazionale, il Fondo Sanitario Nazionale, servono quest'anno a pagare anche i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Quindi i 3 miliardi in più sulla carta, ma in realtà in meno, passiamo dal 6,6 del prodotto interno lordo al 6,2, vengono caricati sul Fondo Sanitario Nazionale. Mentre quando si fa un rinnovo per il personale, come degli enti locali, delle forze dell'ordine, le risorse per i nuovi contrattuali non è che vengono caricate sulle risorse proprie di quel settore, ma sono risorse a parte. Per la sanità non è così. I rinnovi contrattuali si pagano con il Fondo Sanitario Nazionale. È una cosa sconvolgente. Allora, c'è stato un appello di personalità autorevoli del mondo sanitario o di un premio Nobel al Governo Nazionale per segnalare quello che almeno la Campania segnala da anni e spesso da sola. Noi ce ne siamo accorti prima perché, come sapete, abbiamo ancora oggi 200 milioni di euro in meno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. È quello che abbiamo fatto in Campania. È un miracolo. Devo sempre ricordare quando viene qualche giornalista e fa un'intervista, ma qui le liste... Fratello caro, prima di parlare della sanità in Campania ha il dovere di informare gli ascoltatori del dato di fondo che abbiamo 15.000 medici in meno e la metà dei posti di letto è a Lombardia. Chiaro? Poi cominciamo a parlare perché quello che stiamo facendo in Campania ci porta in tanti campi ad essere la prima regione d'Italia nonostante il fatto che abbiamo risorse personali che è l'ultimo fra le regioni d'Italia. È incredibile, ma ancora oggi, dopo aver fatto un piccolo recupero lo scorso anno, noi abbiamo meno risorse e meno personale fra tutte le regioni d'Italia e quindi dobbiamo proseguire nella nostra battaglia. Siamo riusciti a recuperare 58 milioni di fondi nostri per aumentare i tetti per il personale dipendente della sanità pubblica. Stiamo facendo un lavoro certosino per andare ancora più avanti nelle liste di attesa. Nonostante tutto siamo fra le prime tre regioni d'Italia per le liste di attesa. Sono diventate un calvario, non al sud, ma nelle regioni del nord, dove per avere una mammografia in qualche caso bisogna aspettare otto mesi, almeno per alcune prestazioni delicate. Le mammografie, noi abbiamo un tempo medio di erogazione di otto giorni, diciotto nelle strutture pubbliche e meno ancora nelle strutture private convenzionate, nelle quali possono andare i nostri pazienti. Vi comunico anche che noi per fine luglio completeremo l'espletamento del concorso che abbiamo fatto come regione. È stato l'ultimo tentativo, bisognerà fare gli esami verso il 12, 13, 15 aprile, prova scritta e poi prova orale. Entro l'ultima settimana di luglio dovremo avere medici selezionati per i pronto soccorsi. Auguriamoci che siano parecchi e decine, perché davvero siamo ridotti in ginocchio. Perché in questi anni, ma bisogna dire per onestà intellettuale che il problema parte da lontano, non si sono fatti gli interventi nazionali necessari per tutelare i pronto soccorsi. Cioè l'aumento retributivo sostanzioso per i medici in generale, per quelli del pronto soccorso in particolare, l'abbassamento dell'età pensionabile, lo sblocco del numero chiuso nelle facoltà di medicina e i contratti a tempo indeterminato per i giovani medici specializzati. Queste sono decisioni in capo al Ministero della Salute, non alle Regioni. E se non prendi decisioni su questo piano i pronto soccorsi, li chiudi? Allora vediamo se per fine luglio riusciamo a fare un altro miracolo. Dal punto di vista amministrativo l'abbiamo già fatto, abbiamo bandito un concorso unico come Regione Campania. Vediamo se avremo professionisti disponibili a lavorare nei pronto soccorsi.